E' stata risolta positivamente in serata l'emergenza che si era venuta a creare all'interno della casa di riposo a Cerbo De Pasquale di Loreto a Prutino, dove sono ospitate una ventina di leggenti in età piuttosto avanzata. Dopo il ricovero di tre pazienti, di cui uno positivo già venerdì scorso e prime comparse di sintomi presenti dalla scorsa settimana su alcuni dipendenti, il sindaco Gabriele Starinieri, in qualità di autorità sanitaria, aveva disposto nella giornata di sabato il tampone per tutti gli ospiti e il personale. Tamponi eseguiti poi nella giornata di lunedì. I risultati, con molta probabilità, potrebbero essere disponibili già nella giornata di oggi. Dal 4 marzo scorso la struttura era stata chiusa alle visite esterne per le note restrizioni dovute al distanziamento sociale. Dopo diverse sollecitazioni, l'unità di crisi della protezione civile regionale, d'intesa con l'ASP, l'azienda pubblica di servizi alla persona della provincia di Pescara, si è adoperata affidando la gestione ad una società di servizi specializzata all'assistenza degli anziani. Abbiamo immediatamente cercato la disponibilità di personale specializzato per non interrompere le attività della casa di riposo, ha dichiarato il presidente Marsilio. Gli operatori OSS si sono recati presso la struttura per la prima, urgente assistenza agli ospiti. La protezione civile dell'Aquila ha invece provveduto all'invio di dispositivi di protezione individuale, per consentire agli operatori di poter operare in sicurezza. Dopo l'esito dei tamponi, dal punto di vista sanitario verranno eseguite le indicazioni fornite dalla ASL di Pescara. Vorrei ringraziare in modo particolare, dice il sindaco starinieri tutti gli operatori della cooperativa, che dal 4 marzo hanno lavorato con abnegazione seppure i problemi legati ai contagi da coronavirus. Intanto il presidente della regione Abruzzo Marsilio, tramite una lettera inviata a tutti i sindaci della regione, ha voluto esprimere la propria vicinanza e la riconoscenza per tutto il lavoro che ogni primo cittadino sta svolgendo sul proprio territorio. Un pensiero affettuoso ai sindaci che sono risultati positivi al tampone. A loro rivolgo i miei più sinceri auguri di pronta guarigione. Nei giorni scorsi ho creato con i miei collaboratori un gruppo di lavoro che vi contatterà costantemente così che le vostre istanze possano essere affrontate e risolte con necessaria tempestività. Nelle ringraziare i medici sanitari e protezione civile che si sono messi in gioco senza risparmiarsi, il presidente Marsilio aggiunge oggi scontiamo il prezzo di un sistema sanitario non pronto a gestire un'emergenza di tali inimmaginabili dimensioni. Spero, chiude il presidente Marsilio, che questa dolorosa vicenda induca il governo centrale a invertire le politiche che hanno abortato a diminuire i fondi destinati alla sanità.